Siamo facendo la lista degli invitati. Ti va bene martedì prossimo? Sì, ma non far venire troppa gente. A che ora è meglio? Alle nove o alle dieci? Alle dieci. Allora scrivi, martedì alle dieci. Beh, che fai? Non scrivi? Scusate. Cos'hai? Non stai bene? No, niente. Ho dormito troppo poco. Sei stata male? No, solo che... Non so, non riuscivo ad addormentarmi. Sono scesa a cercare la mia medicina, ma non la trovavo. Invece era nell'armadietto in cucina. Potevi svegliarci. Perché non ci hai chiamati? Alle volte l'insonnia fa dei brutti scherti, vero? Eh sì. Basta mangiare poco la sera. Fate come bene. Di mangiare non c'entra. Uno crede di non dormire. E invece sta sognando. Allora, quanti ne hai invitati? Una ventina, insomma. Anche quelli dell'associazione, spero. Fa vedere? Ti ravento oggi. Però i vecchi no, eh. Sono noiosi. Ah, che ne dici? Gabri pensava di fare una festa mascherata. Ma scherzate? Perché no? È divertente. Veramente siamo tutti più divertenti così, senza maschera. Non ti pare? Beh, ora devo andare. Mi aspettano all'associazione. Allora, con la maschera o senza? Allora, con la maschera o senza? Basta mangiare poco la sera. Fate come me. Uno crede di non dormire. E invece sta sognando. Buongiorno. Ah, buongiorno. Ho dato un'occhiata al gruppo automatico. Funziona perfettamente. Ah, sì. Strano, però. Com'è che non funziona lo stimolatore musicale? È la sua ora. Ci deve essere un relai difettoso. Bisognerà controllare tutti i sincronismi. Ah, e come vi trovate senza più gli operai? Bene. Al carico del mangime, senza mia moglie. Non è poi difficile. Eh, la mano d'opera con un impianto così bello diventa del tutto inutile. Si ferma qui? No, vado in città. Ecco, sente? Ah, ti sei accorta che sono tutte coppie? Abbiamo invitato solo mariti e mogli. Diciamo tutte finzioni di coppie. Li conosco bene. Ma forse è una finzione inevitabile. Ah, senti. Che c'è? Ho invitato anch'io una persona. Davvero? E chi? Quel giovanotto che è venuto per Marco ieri. È un tipo divertente. Ho pensato che andava bene per un party. Ti dispiace? No, no, hai fatto benissimo. Anche a me è sembrato molto simpatico. Dì la verità. Ti annoi un poco con noi, vero? Oh, no. Quando penso che verrà il giorno che dovrò andare via da questa casa. Ma che dici? Cosa ti viene in mente? Beh, prima o poi me ne dovrò andare. Ma va, non dire sciocchezze. Ma che vai a pensare? Tu resterai con noi, sempre. Ma lo sai che sei proprio bella? Sei bellissima. Chissà come staresti, Bruna. Un giorno ti farò provare le mie perrucche. Ma no, ti preferisco così. Stai meglio, bionda. Compro, compro! Compro, compro, compro tutto! No, non ci sei. E guarda una cabbia a Milano! Va bene. Lo vengono fatti, Ipa Lella! Ah, sei arrivato. Ti aspettavamo, manchi solo tu. Non vieni? La riunione è di là. C'è già il presidente. Andiamo. Ma ho l'impressione che qualcuno sia venuto a frugare fra i miei preparati e volevo chiederle se lei ne sa niente. No, io no. E poi non entra nessuno nel laboratorio. Sa, sto lavorando ad alcune culture trattate con isotopo i radiattivi e basterebbe il più piccolo errore per rovinare tutta la prossima covata. A me non è mai capitato di entrare qui dentro. Suo marito, forse. L'ho incontrato poco fa. E dov'era? Qui? Sì, l'ho trovato nel laboratorio. Ma non mi ero ancora accorto di nulla. Ma strano che si sia trattenuto qui. Andava ad una riunione, aveva fretta. Proprio per questo non credo sia stato lui a toccare le sue provette, signora Belbac. E poi non ne vedo il motivo. Mi scusi allora, posso essermi sbagliato. Se parlo è per puro scrupolo e per senso di responsabilità. E sa, per un chimico le provette sono sacre. La verità è che la gente non lo conosce, il pollo. Dobbiamo abbattere questo muro di ignoranza e obbligare tutti a conoscerlo. Il pollo deve entrare stabilmente in ogni famiglia. Qui si tratta di elevare la pubblicità a livello politico, come per qualsiasi prodotto industriale. Ed è per questo che come presidente della nostra associazione ho pensato proprio a lei. Approvo. Approvo incondizionatamente. Ma non è possibile. Non mi intendo di pubblicità. Ci vuole uno specialista. Ci vuole il suo buon gusto, solo il suo buon gusto. Di quello abbiamo bisogno. Tu sei la persona più preparata qua dentro. E poi scusa, caro, non ti sei occupato anche di pittura. Per bacco hai scritto anche un libro. Ma non ha importanza. Interessi giovanili. Dimenticate. Non c'è che da dare una pennellata ai bozzetti e agli slogan. Dobbiamo tutti dedicare il tempo libero all'associazione. È un imperativo della vita organizzata. Ci posso provare. Non ne ho dubitato neanche per un attimo. Grazie veramente. Anzi, voglio presentarle la persona che la nostra associazione ha preso sotto contratto per l'organizzazione della campagna pubblicitaria. Vedrà, è un giovanotto acuto e di grande intraprendenza. E quello che più conta, conosce molto bene il suo mestiere. Signori. Oh, carissimo. Le presento il signor Mondaini, nostro esperto per la pubblicità. Ero già passato da casa sua per avere l'onore di conoscerla. Ma non ho avuto fortuna. Lei non c'era. Sì, mi dispiace. Mia moglie infatti me l'ha detto. C'è un gran lavoro da fare qui e sarò lieto di collaborare con lei. Per quel poco che posso essere utile, sono a sua disposizione. La ringrazio. Oh, bravi, bravi. Facciamo meno delle formalità. Andrete perfettamente d'accordo. Mondaini, mi raccomando, non lo molli un momento. Gli spia addosso. Gli spia addosso. Un camp di solda. Un camp di solda. Scusa, mi sono in ritardo Sì Ma devo ancora imbucare gli inviti, li ho in macchina, vuoi venire anche tu? No, c'è tempo, devo parlarti Come? Qui? È tutto così buffo Guarda quella Che tipo E quell'altra? Ho voglia di un gelato, me l'ho offresi? Questa notte t'ho cercata Ti avevo detto di non farlo Dile la verità, dove eri? Perché non eri nella tua camera? Te l'ho detto, mi son sentita male Ma che hai, che stai guardando? Il mio fulano? Non l'avevi mai visto? Quando è che l'hai comprato? Anna me l'ha regalato E ce l'ho da tanto tempo Ma cosa cerchi, che stai guardando? Questi segni, che significano? Ma qualcosa vorranno dire Sono simboli primitivi Non li sai leggere? No, non ci capisco niente, non importa Bene E ora che facciamo? Allora E ora che facciamo? No, non ci capisco niente